no aspetta che Mami te la prepara no no facciamo l'intervento di tagliare della lingua intervento di tagliare la lingua è troppo? è troppo? chi mi dà la zampa? chi mi dà la zampa? no no vieni su metti su alzati Alma no 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 la dobbiamo tagliare? ma Mami non è brava a fare questi lavori da cane questi sono lavori da cane dobbiamo trovare un coltello seduta dai su vieni su su no su su alzati dai la zampa dai la zampa Buono, ferma Questo è mio, questo lo mangio io Non, non, non si fa così Si fa così Si fa così No, non, non ti tagli la lingua Va